Affamati, restate folli, la frase simbolo usata da Steve Jobs per rivolgersi ai giovani è stata presa in prestito per presentare il bando Startup Startup pubblicato dalla finanziaria regionale. Il fondo promuove l'incentivazione di investimenti aziendali volte alla cerca applicata, allo sviluppo precompetitivo e allo Startup di attività e processi innovativi, in particolare quelli ambientali e di efficienza energetica. Ad illustrare i termini del bando finanziato con 9 milioni di euro, il presidente della Fira Rocco Micucci. È un bando estremamente innovativo per imprese innovative, è innovativo perché non ha più la formula del finanziamento ma quella dell'investimento. Creeremo nuove imprese investendo direttamente come finanziaria regionale nel capitale di queste società, cercheremo di farle crescere e poi quando saranno pronte per camminare con le loro gambe potremo uscire fuori da questa società semplicemente al valore nominale di quello che abbiamo prestato a queste società. La novità è che ci rivolgiamo soprattutto a una nuova generazione di giovani ma anche di imprenditori soprattutto, che possono essere di ogni età perché non ci sono limiti e cercheremo in questo modo di fare uscire quei talenti, quelle energie che ci sono in Abruzzo che fino ad oggi forse non hanno avuto modo di esprimersi. Lo start-up è la formula con cui stanno nascendo in Europa, nel mondo, nuove imprese che raggiungono livelli mai sperati ma che soprattutto sono rivolte a quella generazione che oggi non crede più negli inciuci, negli agganci e cerca soprattutto di rivolgersi invece a chi punta sulla meritocrazia. Le domande devono essere presentate online entro il 30 giugno 2015. A valutare le idee sarà una commissione di esperti che effettua lo screening della documentazione presentata analizzando il business plan, il grado di innovatività, il vantaggio competitivo, il team proponente e i criteri di premialità. Il superamento della fase di screening dà inizio alla fase negoziale.